cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo il ciclone si sposta verso sud e sul nostro territorio il tempo torna via ad una maggiore stabilità il dettaglio di sabato 8 aprile sul veneto sarà asciutto con spazi di sereno alternati ad addensamenti per lo più modesti possibile qualche locale precipitazione da metà giornata più che altro non si esclude sull'entroterra temperature in aumento minime tra 2 e 6 gradi massime tra i 14 e i 17 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia sarà anche qui in prevalenza soleggiato con cielo nuvoloso e con possibilità di locali precipitazioni sulla zona montana temperature minime tra 3 e 7 gradi massime sui 14 16 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige avremo un'alternanza di sole e nubi ma con prevalenza di tratti soleggiati temperature minime intorno ai 3 gradi massime sui 16 all'incirca dal meteo è tutto vi do appuntamento al prossimo aggiornamento cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massaccio del contadino a